E prima di lasciarti, prima di ricominciare il corso, un piccolo bonus. Le parole sono potenti, per quello che essere fedele alla tua parola è importante. Le parole sono cariche di significato, hanno un'energia forte. Ed è per questo che le parole che dici, più sei leader, più sei influente, più altri ti seguono e ti ascoltano, più le parole che dici hanno un impatto potente sulle persone. Quindi pensa per un attimo. Qual è il mondo che vuoi? Vuoi un mondo pieno di soddisfazioni? Un mondo pieno di amore, di gioia, di energia, di risate? O un mondo pieno di preoccupazioni, dolore, sofferenza, separazione? Perché le parole che dici creano uno o l'altro mondo. Quindi pensa a tre parole, tre parole che possono costruire il mondo che vuoi. Qual è il mondo che vuoi? E pensa a tre emozioni che vorresti che tuo figlio vivesse tutti i giorni. Con le parole esprimi questa emozione. Quando parli esprimi questo mondo che vuoi costruire. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie.